Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Siva, sono qui a farvi vedere gli obiettivi sbloccati di Lice OP, come vedete questo è il mio secondo profilo, ho fatto tutti questi al cement di Lice OP, manca solo l'ultimo che è questo, che è il From the Pop String, che è il finale che ci manca, per il resto vi ho fatto vedere nella guida tutto quello che c'era da fare, sono abbastanza contento, i miei cement sono questi, come avete visto ho dato quelli globali ma ci sono praticamente tutti a parte uno che è quello là. Quindi a meno così con questa guida sono contento di averla fatta, così da poter mostrare come fare tutto quanto il completo al 100% di questo gioco, poi ognuno è libero di fare, decidere una volta che ha le possibilità di fare quello che vuole, come sempre è giusto che sia. Quindi ragazzi vi do un abbraccio e vi do un saluto a Siva, ciao ciao!